Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Negli ultimi giorni la conoscenza aumenterà. Conoscerai la verità. E la verità ti farà libero. Un programma creato per formare discepoli. Benvenuti di nuovo a Conoscerete la verità. Un programma che è stato disegnato e creato per trasmettere la conoscenza affinché il mio popolo non perisca per mancanza di conoscenza. Oggi vedremo il riassunto di, come già abbiamo visto in tante altre puntate, piccoli riassunto di quello che sono i due anni di scuola biblica. Che è parte del materiale che noi mettiamo a disposizione per tutti quelli che vogliono aprire una scuola biblica a casa loro. Un gruppo di studio biblico a casa loro dove noi formiamo te e nella misura che tu vieni formato tu puoi insegnare agli altri. Il nostro scopo è fare quello che Gesù Cristo ci ha chiesto e in primo luogo portare anima a Cristo e poi fare discepoli. Le uniche due cose che Gesù Cristo ci ha sottolineato che lui pretende da noi è portare anima a Cristo e fare discepoli. E per questo scopo il Signore ha messo nel cuore, dopo averci dato tante di quelle rivelazioni strepitose della Sacra Scrittura, di formare queste scuole di formazione a casa dove sei tu che insegnerai. Non saremo noi, sei tu, noi formiamo te e tu a tua volta formi altre persone. Non è diventare parte di un movimento, di una denominazione, è semplicemente dedicare la vita al prossimo come Dio ci ha chiamato, senza doppi interessi, senza nessun tipo di legame tranne quello dell'amore dove noi ti formiamo e tu spanderai la conoscenza di Dio. Se sei interessato a questo vai su uomodipace.it e scarica la brochure dove trovi tutta l'informazione o nel numero del centralino che troverai sul sito e lì ti daranno tutta l'informazione. Ma andiamo al risunto di uno studio molto, molto, molto interessante che ho intitolato Passato, Presente e Futuro. Passato, Presente e Futuro. E cominciamo con Ecclesiaste capitolo 1, versetto 9. Ecclesiaste è scritto ovviamente dallo Spirito Santo tramite Salomone, l'uomo più saggio della terra. E se Salomone ha detto qualcosa, essendo l'uomo più saggio della terra, sicuramente è saggio ascoltarlo, ma soprattutto meditarlo e capire che cosa lo Spirito Santo sta cercando di comunicare a noi. Ecclesiaste capitolo 1, versetto 9 dice Ciò che è stato è quel che sarà. Ok, quello che è già passato lo vedremo nel futuro, in poche parole. Ciò che si è fatto è quel che si farà. Ora, le cose che sono state le rivedremo nel futuro, ma anche le cose che sono fatte le saranno fatte di nuovo nel futuro. Versetto 10, scusa, è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Versetto 10, c'è forse di qualcosa di cui si possa dire, guarda questo è nuovo? Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Ci sono cose che già esistevano prima. Vedi oggi, per darti un esempio, oggi il top dell'innovazione è fare le cose per mezzo della voce. Dal tipo luce accendeti, macchina parti, computer accendeti, luci spegniti. E' interessante che Dio disse sia la luce, e la luce fu, si separano le acque e le acque si separarono. Cioè, stiamo ritornando a qualcosa come evoluzione della tecnologia, a un qualcosa che già era all'inizio della creazione. Per cui in realtà non è che c'è qualcosa di nuovo. Quello che oggi vediamo è l'evoluzione di un qualcosa del passato. Le aerei sono stati tratti da quello che è la creazione di Dio riguardo agli uccelli. Il punto di ispirazione per le aerei sono stati gli uccelli. E così via ci sono cose che si ripetono, cose fatte che si rifanno nel futuro. Vediamo il film Remade che ritornano, le mode che fanno un circolo e ritornano. E niente c'è di nuovo sotto la terra, dice la Bibbia. E se lo dice la Bibbia ci sarà un motivo. Ma ci sono cose che noi dobbiamo fare riguardo al passato, al presente e al futuro. E' interessante che il tuo passato è sempre connesso con il tuo futuro. Questo l'ho capito un giorno studiando la Bibbia, quando ho notato che Mosè è nato da una madre ebrea. e per paura che fosse ucciso viene messo in una piccola arca e lasciato nel Nilo, raccolta dalla figlia del Faraone, adottato dalla figlia del Faraone e lui cresce in due culture. Lui cresce con la cultura ebraica perché sua madre è quella che lo ha educato, perché Miriam, sua sorella, seguiva quella piccola arca che trova la figlia del Faraone. E sua sorella, lei dice, vuoi che ti trovi una donna per allatarlo? E lei, lei li dà indietro, chiama la madre, guarda, ogni passo di fede produce risultati. E la fila del Faraone non solo gli dà indietro il figlio, ma gli dice, io ti pagherò per allatarlo. Non solo ti do tuo figlio, ma ti pago per fare la madre del tuo figlio. Oh, gloria a Dio. E ora questo bambino è stato educato nelle due culture. A un certo punto, consapevole della chiamata, uccide un egiziano nella carne e finisce i 40 anni nel deserto. Questo è il passato. E a un momento nel presente lui si trova con un arbusto che brucia e Dio gli parla e gli dice, torna in Egitto, dove tu conosci tutta la cultura egiziana, per liberare il tuo popolo, dove tu conosci tutta la cultura del tuo popolo e portalo nel deserto dove tu hai vissuto per 40 anni. Nota come il passato è stato connesso con il futuro. Mosè non ha portato il popolo nella terra promessa perché Dio non l'aveva preparato nel passato per portarlo dentro questa terra. Che è interessante, no? Come il passato è connesso con il tuo futuro. E se tu nel presente vuoi capire il tuo futuro, medita sul tuo passato. Ripeto, se tu vuoi capire il tuo futuro nel presente, medita nel tuo passato. Perché quello che fu è quello che sarà. Andiamo a vedere il passato nel presente. C'è un passo molto interessante. Quanto è importante chiudere il passato per poter vivere il presente? Chiudere il passato. Se tu non chiudi il passato non puoi vivere il presente. Se tu non chiudi il passato non puoi vivere il presente. O vivrai il presente suggestionato delle azioni del tuo passato. Esempio biblico. Prima ricapitolo 17, versetto 17. Allora il contesto qual è? Il contesto è Elia che viene chiamato, viene nascosto da questa vedova che aveva un figlio. Lui lo porta, le dice di andare ad una vedova. Lui gli dice guarda che ho comandato una vedova che ti mantenga. Che lei ti sostenga in quanto al mangiare e al bere. E se tu vedi, lui arriva per capire se quella era la vedova. Dice dammi un po' di acqua. C'era carestia. E lei va a prendere un po' di acqua. E allora a un certo punto le dice ok dammi da mangiare. E lei dice guarda io non ho niente tra anche un po' di olio e una farina. Stavo per fare una focaccia per me e mio figlio. E poi morire. Nota come lei decreta. E poi morire. Lo dice. Ma è interessante che Dio aveva ordinato alla vedova di sostenere il profeta. E la vedova non aveva idea che era Dio che aveva ordinato alla vedova di mantenere il profeta. Che in realtà è il profeta che mantiene la vedova. Perché dico questo? Perché quando il profeta dice ok non preoccuparti. Tu fai la focaccia ma prima dammi da mangiare a me e l'olio e la farina non finiranno. E ora grazie all'obbedienza e la provvidenza verso l'uomo di Dio. Dio provvede alla dona. Ma Dio ha detto ho già ordinato una dona che ti sostenga. Vedi interessante come Dio lavora. Ma a un certo punto il figlio nel versetto 17 di Prima Re capitolo 17. Dopo queste cose il figlio di cui la dona che era la padrona di casa si amalò. E la sua malattia fu così grave che egli cessò di respirare. Allora la dona dice Elia che ho da fare con te uomo di Dio sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio. Ora nota come lei subito ha conneso i peccati del suo passato con gli eventi del suo presente. Cioè con quel male che è arrivato nel presente. E lei dice sei venuto a ricordarmi i miei mali e far morire mio figlio. Nota che lei non aveva chiuso con il passato. Cristo ti ha perdonato, noi siamo una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutte sono fatte nuove. Se tu vuoi liberi del presente dovrai chiudere con il tuo passato. Senti le sbagli del passato Dio li ha cancellati, ma se tu non li cancelli, se tu non chiudi la porta del passato, quel passato ti tormenterà nel presente. E ogni volta che vedrai qualcosa di negativo dirai ah questo è lo sbaglio che ho fatto quella volta. Ha senso? Ora quanto è importante, già lei era vedova, vuol dire che aveva perso un marito e adesso perde il figlio. E lei aggiudica tutto questo alla presenza dell'uomo di Dio perché l'uomo di Dio è quello che viene a predicare. La predica ti aiuta a riconoscere il tuo peccato ma tu devi chiudere la porta del passato. Se tu non chiudi una volta che tu ricevi il perdono, volta la pagina, impara a perdonare te stesso e impara a perdonare gli altri come Dio perdona. Perché molte persone non perdonano come Dio perdona. Tu sai se tu perdoni come Dio perdona? Sai che quando Dio ti perdona non si ricorda più? Tu sei come Dio quando perdoni? O alla prossima discussione rimetti in piedi tutto quello che è, le svali che in teoria tu già avevi perdonato. Senti se tu hai perdonato non richiamare più le svali del passato. Volta a quella pagina. Ci sono coppie che litigano, mi ricordo quando eravamo ragazzi che tu mi hai fatto quella cosa lì in un ristorante 50 anni fa. Lascia andare il passato, il passato è passato e se tu non chiudi con il passato ti perseguirà nel presente. Un altro esempio, Isaia 43-18. Non ricordare più le cose del passato e non considerare più le cose antiche. Nota che in questo caso, ci sono cose che dobbiamo ricordare e adesso vi sottolineerò quali sono le cose che Dio vuole che tu ricordi. Dall'altro lato Dio ti dice non ricordate più le cose del passato e non considerate più le cose antiche. E dice ecco io sto per fare una cosa nuova e se sta per germogliare non la riconoscerete? Sì io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. Cioè in mezzo al deserto che stai passando Dio farà qualcosa di nuovo, tu la riconoscerai? Ma se tu non smetti di ricordare le cose del passato, non riconoscerai la cosa nuova. Se tu non chiudi con il passato non puoi riconoscere la cosa nuova perché il passato sta prendendo forza nel presente. Dio vuole darti qualcosa di grandioso che è futuro, che sta per apparire, che tu la riconoscerai, ma prima di riconoscerla Dio ti disse non ricordarti più del passato. Allora ci sono cose che dobbiamo fare nel presente per ricordarci del passato, una di quelle è la cena del Signore. Gesù Cristo ha detto fate questo in memoria di me, vuol dire che ogni volta che io prendo il pane e prendo il vino io mi devo ricordare di quello che Cristo ha fatto. In primo luogo che ha cancellato i miei peccati, per quello se lui ha cancellato i miei peccati io mi devo ricordare di quello che ha fatto e devo lasciare il passato. Dell'altro lato ogni volta che lo fate annunciate la mia venuta, vuol dire che con la cena del Signore io sto ricordando quello che ha fatto in un'azione del presente e fissandolo nello sguardo e nel futuro nella sua seconda venuta. Alleluia! Allora altre cose che dobbiamo ricordare che sembra un po' contraddittorio perché in Isaia 43 dice non ricordate più le cose del passato ma in Isaia 46 dice ricordati il passato, le cose antiche. Allora sembra un contrasenso ma per capire quello che Dio sta dicendo non è che dal capitolo 43 al 46 Dio è cambiato. No, 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 c'è un contesto. Io mi devo ricordare delle cose antiche per un motivo in particolare e questo mi aiuterà a avere le vittorie di Dio nel presente e te lo spiegherò come. Perché? Prima diceva non ricordare le cose del passato perché sto facendo una cosa nuova, non le riconoscerai? Allora riguardo alle cose del passato e per capire la cosa nuova devo lasciare le cose, non ricordare le cose del passato altrimenti io non posso scoprire o discernere la cosa nuova che Dio vuole fare nella mia vita. Ma dall'altro lato dice ricordate le cose, ricordate il passato, le cose antiche perché io sono Dio e non c'è alcun altro, sono Dio e nessuno è simile a me. Io annunzio la fine sin dal principio. Cioè appena convertito tu già avevi l'Apocalisse da leggere. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute, io dico il mio piano sussistirà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Ora ma per quale motivo Dio dice ricordate, ricordate il passato? Ora quando Dio vuole fare qualcosa di nuovo non devo ricordare il passato altrimenti non riesco a discernere. Ma per conoscere Dio devo ricordare alcune cose del passato come abbiamo visto con la cena del Signore, ricordate, fate questo in memoria di me ma vedete quello che dice il Salmo 77,11 Io rivocherò i prodigi del Signore, sì ricorderò le tue maraviglie antiche, mediterò su tutte le opere tue e ripensarò alle tue geste. Allora noto come Davide, uomo secondo il cuore di Dio, dice sì io mi ricordarò, per che motivo dobbiamo ricordarci le cose del passato? Salmo 143 dice il mio spirito è abattuto in me, il mio cuore è tutto smarrito dentro di me nota che c'è un momento di afflizione nel presente ma dice ricordo i giorni antichi, medito su tutte le tue azioni rifletto sull'opera delle tue mani, tendo le mani verso di te Anima mia come arida terra, l'anima mia come arida terra è assettata di te Sela o pausa, Sela cioè meditazione In poche parole, io sono afflitto ma medito nel Dio che ha fatto uscire il popolo dell'Egitto ma medito nel Dio di Paolo, ma medito nel Dio di Pietro, ma medito nel Dio dei profeti di Elia, di Eliseo, medito nel Dio di Noè, quel Dio che ha fatto uscire a Davide della tribulazione il Dio che è l'alfa e l'omega, io medito in te, la mia anima è assettata di te perché se lo hai fatto con loro lo puoi fare con me e allora sì che mi ricorderò delle cose del passato quando io ho bisogno di una cosa nuova da parte di Dio non devo ricordare le cose del passato ma quando io ho bisogno di vedere il Dio potente il Dio di Israele, il mio Dio devo ricordarmi delle azioni del passato devo ricordarmi della potenza di Dio perché Dio è lo stesso ieri, oggi e per sempre e se lo ha fatto per loro lo farà anche per me Alleluia Salmo 103, versetto 12 dice Benedici anima mia il Signore e non dimenticarti nessuno dei suoi benefici lui ha vissuto dei benefici e quei benefici che lui ha vissuto è importante che lui non le dimentichi è importante che noi ne dimentichiamo tutto quello che sono i benefici che Dio ha fatto nel passato perché sono dei trampolini per noi è come Davide che quando vede Golia lui dice io lo posso far fuori e lo portano dal re e il re lo vede e dice tu non puoi perché sei un ragazzino e lui dice no io posso perché io ho fatto fuori un leone e ho fatto fuori un orso e questo filisteo farà la stessa fine perché il Signore è con me e ora nota come lui ricordava quelle proese consapevole che era stato Dio aiutarlo con il leone ricordava l'orso consapevole che era stato Dio aiutarlo con quell'orso e quando vede nel presente lui si ricorda delle vittorie del passato e con certa fermesa e fede dice al re io posso farlo anche se tu mi dici di no io ti dico di sì perché l'ho fatto con il leone l'ho fatto con l'orso e questo gigante farà la stessa fine e ne parla con una certezza evocando e ricordando le cose del passato che il re si toglie l'armatura e le la mette addosso a Davide e meno male che Davide non l'ha accettato e dice no io non posso non sono abituato lasciatemi con quello che sono abituato una fionda e ora in quel presente è la fionda che lui ha utilizzato per far fuori Golia ma nel futuro c'è un Salmo che dice Dio adestra le mie mani per il combattimento mi fa tendere l'arco di bronzo nota che lui comincia a combattere con la fionda ma alla fine lui finisce con l'arco di bronzo l'arco di bronzo era una delle armi più efficaci di quei tempi era un'arma che pochi sapevano utilizzare che ci voleva una tecnica molto speciale e l'arco di bronzo una volta che veniva utilizzato la freccia era così potente che trapassava un'armatura di lato a lato ma Dio che le aveva dato la vittoria con una semplice fionda poi lo aveva destrato per combattere con l'arco di bronzo e noi dobbiamo cominciare ma non dimentichiamoci da dove siamo venuti questo sicuramente ma dobbiamo fissare lo sguardo dove Dio ci sta portando per quello non dimenticare nessuno dei suoi benefici e li perdona tutte le tue colpe e risana tutte le tue infermità salva la tua vita dalla fossa ti corona di bontà e compassioni e li sazia di beni la tua assistenza e ti regiovenisce come l'aquila questi sono dei benefici che non deve ricordare allora ci sono cose che deve dimenticare ci sono cose che deve ricordare che ti aiuteranno verso il futuro e andiamo concludiamo con il futuro prima Timotio capitolo 1 versetto 18 dice ti affido questo incarico Timotio figlio mio in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatta a tuo riguardo perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia allora nota che una profezia è una manifestazione dello Spirito Santo una profezia porta alla luce le cose che sono nel profondo del cuore una profezia non è niente di nuovo perché lo Spirito Santo che ha parlato per mezzo del profeta è lo stesso Spirito Santo che dimora dentro di te per quello molte cose sono già rinchiusse il tuo futuro è rinchiuso dentro abbiamo visto come Mosè il suo futuro lo poteva decodificare analizzando poi il suo passato ma dentro di te c'è il futuro di Dio per mezzo dello Spirito una profezia è semplicemente una conferma di un qualcosa che tu già sai per mezzo dello Spirito ricordati questo una profezia è solo una conferma di qualcosa che tu già sai per mezzo dello Spirito quando una profezia non viene da Dio io dico sempre che è come aprire la finestra e trovarti con un elefante nel giardino cioè l'impressione più o meno è quella quando qualcuno viene e dice così dice al Signore e ti dà una parola e tu dici una volta mi ricordo viene la moglie di un pastore tanti tanti anni fa e mi dice viene vicino a me così dice il Signore vedi un'aquila grande che viene sopra l'aquila piccola e io la guardo dicendo molto toccante molto toccante ancora non ho capito che cosa è l'aquila grande che arriva sull'aquila piccola ma vabbè contenta lei per quello quando una profezia viene da Dio veramente questa profezia ti tocca nel cuore rimane sigillata e ti permette e deve essere un punto verso il futuro per combattere la buona battaglia della fede è un punto fisso una parola profetica che è un qualcosa che tu già hai dentro è un punto fisso nel futuro per poter combattere la buona battaglia della fede e soprattutto fare delle scelte medita ogni tanto sulle profezie che Dio ti ha dato affinché tu sappia fare anche le scelte in basse a quelle profezie e Filippesi capitolo 3 versetto 13 dice fratelli io non ritengo di averlo già afferrato ma una cosa faccio dimenticando le cose che stanno dietro non quelle di Dio ma quelle sue e protendendomi verso quelle che stanno davanti cioè quelle profetizzate quelle rivelate corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione in Dio in Cristo Gesù notate che se io voglio raggiungere il futuro di Dio prima devo lasciare il passato devi chiudere con le porte del passato se tu non chiudi le porte del passato non potrai raggiungere il futuro di Dio e per ultimo prima Pietro 1.13 perciò dopo aver predisposto del passato smetti di fare le cose come le facevi prima rinuova la mente predispone la mente per l'azione perché Dio ha preparato delle grandi cose per te che tu raggiungerai ci sono parole che Dio ti ha dato e che tu raggiungerai il passato è scuola ma devi chiudere se tu vuoi raggiungere quel passato chiudilo e sii consapevole che non è che fissare lo sguardo nel futuro non vuol dire fissare lo sguardo fino al giorno della morte perché Paolo dice io ho un premio che mi aspetta e questo premio te lo gusti nell'aldilà è un premio che ti viene dato una volta che hai passato già quel giordano spirituale che è la morte e ti trovi dell'altra parte e lì la vita comincia non è che saremo in una nuvole a suonare l'arpa per l'eternità avremo tante cose da fare nell'aldilà e molte delle ricompense vengono determinate delle cose che noi faremo qua bene spero che questo studio vi abbia edificato che ti abbia fatto meditare la parola di Dio c'è un futuro che tu devi raggiungere ma devi predisporre la mente per l'azione e il modo in cui la devi predisporre è per mezzo della parola di Dio per quello se tu senti che devi formarti senti che il cuore sta bruciando quando ci sono gli insegnamenti e vorresti gratuitamente essere formato nella conoscenza della Sacra Scrittura e aprire a casa tua un gruppo di studio della Bibbia gestito da te noi ti formeremo a settembre comincia il trimestre uno dei trimestri che noi facciamo sono due trimestri annuali e in questo trimestre noi ti formeremo in quello che è la cura pastorale la organizzazione di un gruppo di una scuola biblica cioè come cominciarla come farla crescere e come moltiplicarla nella guarigione dell'anima e la liberazione partendo di te facendo un'amministrazione a te perché tutti abbiamo bisogno di chiudere qualcosa del passato e a volte abbiamo bisogno di una mano e poi formandoti affinché tu possa aiutare altri nell'area della guarigione dell'anima e della liberazione e per ultimo la conoscenza della sacra scrittura già alcune addirittura hanno cominciato con queste scuole bibliche e hanno cominciato come espansione delle comunità nelle case e il regno di Dio si sta espandendo in così poco tempo perché quando qualcosa viene da Dio è come si spande a macchia d'olio e sappiamo che stiamo toccando il tasto giusto se vuoi essere parte di questo puoi andare su uomopace.it uomodipace.it scarica la brochure o chiama al numero del centralino che troverai sul sito e lì ti daranno tutta l'informazione vi benediciamo nel nome di Gesù Cristo e che la grazia di Dio sia con voi e noi ci vediamo nella prossima puntata non cambiare canale perché chi cambia canale cambia canale bene ciao a tutti grazie a tutti